Ogni volta che io mi affaccio qua a questa terrazza e vedo la luce del sole, mi si illumina il cuore. Questo nostro libro di terra e mare noi raccontiamo la nostra amicizia, secondo te perché noi siamo diventati amici? Per l'affinità elettiva, sempre così, sono le affinità elettive che creano le amicizie. Una volta mi hai raccontato di quando sei tornato dall'America e ti ricordi che facessi questo lungo viaggio in nave e poi entrasti nel Mediterraneo. Come no? E sentivo la bellezza del Mediterraneo dopo l'attraversamento dell'oceano perché la verità è che il Mediterraneo mi apparve bello. perché un vento si chiamava zefiro, un pesce si chiamava delfino, cioè i nomi delle cose avevano già una poesia che trasmettevano, capisci? Sì, e poi c'era la trasparenza dell'acqua. Beh, per me la trasparenza è la poesia. Sì, e poi c'è la trasparenza dell'acqua. Beh, per me la trasparenza è la tua stagione. Grazie a tutti.